Sono Paolo Longo Borghini, ho 30 anni, sono nato ad Asiago e corro per il team Liquigas Cannondale. Una volta sceso dalla bicicletta sono un ragazzo molto semplice, padre di famiglia, ho una bimba che ha 17 mesi, di Anna, una moglie bellissima, Kimberly. A chi mi possa ricordare, in bicicletta ci sono sempre andato e ne ho avute molte. Quello che mi ricordo vagamente è una bicicletta bianca, metà plastica e metà ferro, però ho una curiosità, aveva già le ruote razze, quindi ero già predestinato, e questo si vede nel praticare ciclismo a livello agonistico. La mia gara più bella in assoluto è stata il Trofeo Nobili del 2006 che ho vinto, è stata la mia prima gara vinta da professionismo, io spero che sia la prima di molte gare che vincerò. La vera forza del team Liquigas Cannon, l'unità che c'è nel gruppo, la professionalità, i miei obiettivi per il 2011 sono sicuramente quelli di dare il massimo supporto ai miei capitani. Il mio sogno sicuramente è quello di correre ancora un bel po' di anni come ciclista professionista. E un ulteriore sogno, sognare è decito e anche gratis, è quello di rimanere nell'ambito del ciclismo. È il mondo in cui a me piace vivere. Il mondo in cui a me piace vivere. Il mondo in cui a me piace vivere. Grazie a tutti.